presti jackson bellissimo con visore rosso smitter rosso anche a visione notturna ha un suo perché e ora lo proviamo siamo in funzione power il nostro watt metro andiamo a vedere subito in ampiezza modulata dai parlando normale in questo microfono 123 cambio dai facciamo il watt e mezzo di portante arriviamo a 10 abbondanti e modulazione benissimo benissimo quasi pilotano grossi lineari senza problemi ora il picco è tangibile anche per chi ci ascolta così come la coda eco cambio 123 prova prova filo di voce cambio cambio 123 ola e come il solito vediamo anche la funzione watt metro poi cambio cambio percentuale di modulazione che passa ampiamente il cento per cento come possiamo dimostrare anche dallo strumento e questa è la percentuale di modulazione dai 3 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 4 4 4 4 cambio 123 prova radio ola qua abbiamo fatto un super jackson ragazzi è questo jackson qua non teme confronti con nessun tipo di radio cambio